I giardini della Rocca Malatestiana, un luogo dove l'ordine pubblico è particolarmente a rischio, visto gli episodi che sono accaduti. Ebbene, la Lega ha istituito un box per richiamare l'attenzione su questo problema, un problema ancora contingente, emergente questo per la città di Fano. Purtroppo assolutamente sì, nonostante in queste ultime settimane, anche grazie agli appelli, agli interventi fatti in Consiglio Comunale, ad altri incontri che stiamo proponendo nei quartieri, c'è una maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine che hanno predisposto alcuni servizi. Però allo stato attuale ancora le problematiche, soprattutto qui nel centro storico, si ripetono. Vediamo che anche oggi, in questo momento no, perché probabilmente si sono spostati, ma ci sono sempre degli assembramenti, si susseguono le risse, si susseguono episodi spiacevoli, anche verbali, magari a volte, che non sono nei confronti soprattutto magari delle donne, delle ragazze, che non sono dei veri e propri agguati, diciamo. Però sono sempre delle situazioni che contribuiscono a creare un clima di preoccupazione, di paura. Abbiamo voluto richiamare l'attenzione della città, dei cittadini e delle forze dell'ordine. E' anche un momento per confrontarci proprio con i cittadini, perché molto spesso non trovano ascolto su queste tematiche. Che cosa proponete all'amministrazione comunale per sanare la situazione? Ma secondo noi, in questo momento sicuramente, è giusto attuare un presidio e delle attività proprie delle forze dell'ordine sempre maggiore. Intervenire sui servizi sociali, di coinvolgere i giovani che magari si lasciano andare a dei comportamenti non proprio consoni e quindi di creare delle occasioni. Le forze di polizia locale devono essere sicuramente incrementate, devono arrivare più persone in strada, devono essere dei servizi molto probabilmente molto più lunghi, quindi che riguardino anche gli orari serali, che purtroppo non vengono coperti. Purtroppo l'amministrazione comunale sta derubricando il problema della sicurezza a un mero controllo postumo. Secondo noi invece bisognerebbe fare prevenzione. Ciò significa potenziare l'illuminazione pubblica nei parchi, nel verde, dove chiaramente oggi questa non c'è. Si possono potenziare anche la videosorveglianza con le nuove tecnologie che prevedono anche l'eventualità che si possano installare senza tanti cablaggi, quindi spendendo anche pochi soldi. E soprattutto chiediamo e ci impegneremo affinché si possa potenziare il corpo di polizia municipale perché siamo convinti che un presidio del territorio, una figura indivisa che comunque sia è presente in questi luoghi della città, possa fungere anche da deterrente e quindi far sentire anche le persone molto più sicure. Un coinvolgimento forse anche dal punto di vista sociale? Ma assolutamente, è chiaro che la gioventù di oggi deve essere recuperata in modo tale che possa essere parte integrante della società, non sentirsi un margine e far sì che possano contribuire alla crescita della nostra città tutta.